Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. La Sette è un problema di incapacità di rispondere alle esigenze dei cittadini molto rosto. Caro Tiglio, so che tu lo sai, mi raccomando, scegli un assessore sulla base della sua capacità. Ci vuole un assessore eccellente a qualunque partito appartenga o che sia esterno alla politica, che si circondi di aiutanti eccellenti, i migliori d'Italia, i migliori d'Europa e che abbia voglia di lavorare 24 ore su 24. Ottimo, e come vicepresidente prenditi la russa, fratello. No, no, come vicepresidente questa è una decisione che funziona tra i partiti. La russa, anche egli uomo di vecchia data, è stato mio assessore nella mia prima legislatura. Glielo consiglia come vicepresidente? Oggi che vanno di moda i presidenti internazionali. Questa è una decisione che prendono i partiti. Quindi la russa ha fatto l'assessore più volte e può benissimo fare il vicepresidente. Poi ognuno ha i suoi gusti. Io potrei non ancora ben esaminato tutto l'elenco di coloro che sono stati eletti. Grazie per essere stato con noi. Anche consigli per Fontana oggi. Grazie a Buccini, grazie a Sommi. Qualche minuto di pubblicità. Torniamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.